Livia Carli, Presidente del Comitato, siamo Galeazza. Allora dopo questo incontro vi è un po' tornato il sorriso. Com'è? Che succede? Sì, direi di sì. Sembra che il Sindaco abbia accolto tutte le nostre istanze, abbia deciso di fermare un attimo il tutto e di tenere conto che nel frattempo si sono avute delle nuove disposizioni a livello legislativo, sia per quanto riguarda la tutela ambientale che anche per quanto riguarda le valutazioni di impatto ambientale e che quindi sia giusto rivalutare il tutto secondo queste nuove disposizioni legislative. Per cui noi siamo contenti perché è un po' quello che noi avevamo sollevato. Tutte le problematiche che noi abbiamo sollevato sono state, come dire, anche fatte proprie dal Sindaco. Chiaramente noi come Comitato non molleremo, andremo avanti nelle nostre ricerche, anche valendosi dell'aiuto di legali, biologi, però ci riteniamo soddisfatti. Ringraziamo il Sindaco anche di aver tenuto conto, anche come dice lui, di questa valutazione costi-benefici. Abbiamo visto che è stato presente anche, come Marco Scaiola, come espressione della Regione e quindi pensiamo che anche il suo aiuto sia stato un punto di favore per la nostra causa e per quanto noi sosteniamo da tempo.